Buongiorno e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Siamo qua oggi per farvi vedere un'occasione di una fisarmonica Paolo Soprani usata in ottime condizioni, appena sistemata dall'amico Marco che ce la spiegherà un attimo e ci farà sentire anche un po' di caratteristiche del suono. Prego Marco. Allora, questa è una fisarmonica 80 bassi, fisarmonica con tre voci al canto, cioè intendiamo tre voci alla mano destra. Con questo timbro vi faccio sentire tutte e tre le voci che suonano contemporaneamente. Il timbro è molto pieno, poi abbiamo una voce, il cosiddetto piccolo, la voce bassa, il cosiddetto musette, voce parigina, diciamo così. E queste sono le disponibilità nella mano destra. Anzi no, abbiamo anche la voce a doppia voce. Ok, vediamo un po' se la troviamo. Eccola qua. Ci sono due voci che suonano al canto e una l'ottana di 30. Noi abbiamo i bassi in quarta, cioè quattro voci al canto. Questa fisarmonica ha la possibilità di un doppio timbro, perché qui c'è un'apertura, queste quattro bocche, e il suono diventa più aperto. Perciò è, diciamo, due anime in un solo strumento. Per cui è un strumento costruito in Italia, tutti i pezzi sono italiani, è un bellissimo strumentino. Bellissimo strumentino. Chiudiamo con qualcosina di sonoro e basta. Ora se non va a suonare la musica un pochino più ricercata. Sì, mi sembra stato uno strumento adatto a diversi generi musicali. Quindi vi aspettiamo in negozio, è uno strumento che offre una garanzia di un anno, e vi aspettiamo in negozio per venire a provare. Grazie e a presto.